Agrivoltaico cos'è e chi può averlo? L'agrivoltaico innovativo è una soluzione avanzata che consente agli agricoltori di ridurre l'impatto ambientale e aumentare il reddito. Installare pannelli fotovoltaici nelle aree agricole permette di produrre energia green senza intaccare la produzione agricola tradizionale. Dal 4 giugno 2023 il PNRR offre fondi per finanziare contributi fino al 40% dei costi e incentivare l'energia elettrica autoprodotta. Le linee guida del GSE aiutano a adottare tecnologie agrivoltaiche in armonia con attività agricole, migliorando la sostenibilità e la produzione di energia rinnovabile.